Il giorno e la storia Oggi è il 26 febbraio 1991, Kuwait City liberata dalle truppe alleate 2006, Torino, terminano i giochi olimpici invernali 1993, autobomba nei garage del World Trade Center di New York Commenta il fatto del giorno Paolo Possamai, direttore di Il Mattino di Padova Parliamo di Giulio Natta, uno dei protagonisti del Miracolo Italiano